Allora, una lezione anche questa piuttosto ambiziosa, perché l'autore che ci proponiamo di affrontare quest'oggi è niente popo di meno che Lawrence Stern. Un autore al quale possiamo ricondurre tutta una serie di tecniche, non solo narrative, ma anche teatrali e cinematografiche, la tecnica della dilatazione, la tecnica del salto analogico dal presente al passato e viceversa, tecniche ampiamente utilizzate sia nelle serie televisive che anche nel singolo prodotto cinematografico. E a questo autore del XVIII secolo, che in qualche modo conclude un ciclo di grandi romanzieri, il ciclo che abbiamo aperto con Daniel Defoe, il prepulsore. Daniel Defoe era il giornalista, colui il quale si attiene ai fatti, come si conviene ad un giornalista, e che quindi nessuno spazio lasciava all'introspezione, all'analisi psicologica, soltanto fatti in rigoroso ordine logico e cronologico. Fatti e non opinioni. E invece cosa accade? Tanta letteratura si è prodotta da quei due romanzi, da Robinson Crusoe e Moll Flanders. Abbiamo avuto il romanzo psicologico, quello di Richardson. Abbiamo avuto il romanzo antieroico, quello di Fielding. Abbiamo avuto il romanzo satirico, con Swift. Oggi affrontiamo il tema del romanzo unconventional, il romanzo non convenzionale. Cioè tutto ciò che si è convenuto fino ad allora dovesse essere un romanzo, tutte le tecniche, tutte le strategie che sono state messe in campo fino ad allora, vengono sovvertite, ribaltate. E' come se Stern volesse mostrarci com'è fatto un romanzo mostrandoci il rovescio. Come se io, per mostrarvi come è realizzato un abito che indosso, io ve lo capovolgessi per farvi vedere la trama, la cucitura, l'intervento del sarto, il retroscena, il sottotesto, la dietrologia di quello che c'è nel romanzo. E per fare questo Stern utilizza gli input innanzitutto di due filosofi come Francis Bacon e John Locke, ma anche, e quindi è sua la paternità, l'idea di straniamento di ciò che è raccontato rispetto al punto di vista. Ciò che è raccontato verrà raccontato dal punto di vista di ciascuno dei personaggi che via via si avvicendano nel romanzo, ma anche dal punto di vista del narratore, fin qui voi direte niente di nuovo, nì i nuovi sul sole, niente di nuovo sotto il sole, ma aggiungo anche dal punto di vista dell'autore. Dunque, oltre ai personaggi portatori, ciascuno del suo punto di vista abbiamo anche il punto di vista del narratore, ma anche il punto di vista dell'autore, come se narratore e autore fossero due persone e personaggi differenti, è come se lo Stern autore prendesse le distanze dallo Stern narratore. Allora, perché il capolavoro di Stern, ovvero Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman, ha questo titolo? Perché noi veniamo subito confrontati da questa nuova idea, la vita, sì, del protagonista, la vita di Tristram Shandy, ma anche le opinions, quindi il lettore che approccia questo romanzo deve sapere che soprattutto le opinioni del protagonista e degli altri personaggi verranno evidenziate in questo romanzo, che è un romanzo scritto a cavallo di dieci anni, ci mette dieci anni per scriverlo, e perché? Perché è un romanzo in nove volumi, è un'opera mastodontica, voi direte, ma chissà che lungo periodo di eventi coprirà, e invece no, sono soltanto ventiquattro ore. Allora, com'è possibile che ventiquattro ore di presunta realtà, ventiquattro ore di fatti, vengano dilatati, vengano amplificati e dilatati al punto da richiedere nove volumi scritti, peraltro, in dieci anni? La risposta è semplice, e la vedete in questo grafico che è qui sulla lavagna, perché se ciascuno degli avvenimenti di queste ventiquattro ore viene raccontato dal punto di vista di ciascun personaggio, più del narratore, più dell'autore, è chiaro che ci sarà una dilatazione incredibile del narrato. Quindi la differenza fondamentale tra il narrato e la narrazione. Primo. Ancora, se vengono compiuti dei flashback e dei flashforward, dei salti in avanti e all'indietro, se quando io apro il romanzo io inizio con il capitolo dieci, volutamente Stern comincia dal capitolo dieci, e il capitolo uno lo trovo solamente a pagina centoquarantaquattro. Cosa significa questo? Voi direte è il caos, è il disordine. Ebbene, Stern inventa egli stesso questa formula dell'ordine nel disordine. Order in disorder. Questo romanzo è un disordine ordinato, o se preferite un ordine disordinato, perché non viene seguito il filo logico e cronologico degli eventi, ma la narrazione è in grado di saltare analogicamente da un fatto all'altro. Ragazzi, riflettiamo qual è la differenza tra la nostra mente, la mia mente umana e analogica. La mente di un calcolatore elettronico è digitale. Vi ricordo che digitale viene dalla parola latina dita. Allora, se al computer io chiedo cos'è avvenuto il 25 novembre del 1995, il computer non è in grado di fare un salto, un salto analogico, ma deve in maniera digitale, 1, 2, 3, 4, 10, andare indietro digitalmente, senza fare salti, fino a quella data. Allora, questa è la mente, la mente cibernetica, la mente digitale. La mente umana analogica compie immediatamente quel salto ed è in grado di fare ulteriori salti liberamente con delle associazioni di idee che sono totalmente random. Ecco l'insegnamento di John Locke, il padre dell'empirismo inglese, la mente umana, uno degli insegnamenti di John Locke, è in grado di compiere dei salti analogici da un'idea all'altra, idee che vengono associate in libertà. Pensateci, è così che la mente umana si muove, si muove per salti, si muove per associazioni. immaginatemi a passeggio in una via quanti input già mi arrivano dall'esterno, una vetrina, vedo una persona, quindi io sto pensando a qualcosa, poi magari intravedo qualcuno e subito cambio idea, cambio ciò a cui sto pensando e dico ecco quella è una persona che non voglio incontrare, quindi prima magari pensavo a cosa mangio per cena, poi vedo lui, mi ricordo di una cosa che lui mi ha fatto, cambio marciapiedi perché non voglio incontrarlo, poi però nello stesso tempo mi squilla il telefono, una notifica e allora mi ricordo un'altra cosa, vedete, è questa la nostra mente, è un continuo ribollire di sensazioni, pensieri, ricordi, paure, quindi siamo in grado paure, angosce, quindi siamo in grado anche di pensare al futuro, ricordiamoci che l'essere umano è l'unico animale che ha anche la fame futura, cioè noi siamo gli unici che in qualche modo si preoccupano e forse troppo di quello che deve ancora succedere, questo gli animali non lo fanno, noi siamo gli unici, allora vedete salti all'indietro, in avanti, è la mente umana che funziona così, lo ha insegnato John Locke, Stern ha questo merito incredibile di aver trasposto per la prima volta su carta questo andamento, ma voi tornate a guardare quel grafico, vedete quelle 24 ore che si dilatano in nove volumi, certo perché each event is narrated from a lot of points of view, il punto di vista di ciascun personaggio, il punto di vista del narratore, il punto di vista dell'autore, ma vi dico di più, al contrario di Defoe, ecco, è proprio diametralmente opposto rispetto a Defoe, Stern, Defoe dice solo fatti, just stick to the facts, attieniti ai fatti, non importa l'opinione, né la tua autore, giornalista, narratore, né tantomeno quella dei personaggi che tra l'altro tra l'altro sono anche coinvolti, quindi il loro punto di vista è contaminato da ciò che loro provano e pensano, qui abbiamo tutto il contrario, Stern non ci darà mai un resoconto oggettivo dei fatti, lascia a me lettore il compito di cercare di risalire a quello che può essere realmente avvenuto, io ho soltanto, vedete io faccio sempre l'esempio di quando ci viene chiesto in redazione giornalistica di fare i microfoni aperti, immaginate che senza la voce narrante del giornalista io mandassi in onda venti minuti di microfono aperto su la chiusura di quel passaggio a livello, microfono aperto su oddio come distribuiranno i vaccini anti-covid e io mando soltanto una sequenza di opinioni di uomini e donne presi per strada casualmente ottenete qualcosa dal mio punto di vista qualcosa di fantastico perché è un caleidoscopio cos'è il caleidoscopio? è come l'occhio composito della mosca andate a vedere come funziona l'occhio della mosca l'occhio composito è come se ci fossero l'immagine viene in un caleidoscopio vista da tante angolazioni per cui il concetto guardate il concetto di barocco barocco viene da barrueco che vuol dire la pietra tagliata male cosa fa una pietra tagliata male? se io la pongo in un punto della stanza poiché le facce di questo solido sono tagliate in maniera irregolare esse ciascuna di esse mi darà un'angolatura scusate un punto di vista diverso della stessa stanza questo è fantastico e Stern lo coltiva fino in fondo a costo di fare entrare in contrasto le opinioni dei diversi personaggi più il narratore più l'autore tra di loro si crea una reazione chimica incredibile ed è quello ed ecco perché vedete anche sulla lavagna Francis Bacon che Bacon diceva essere gli idola cioè gli idola fuori gli idola teatri tutti gli inganni della percezione umana della realtà e a maggior ragione gli inganni che nascono quando un essere umano vuole comunicare ad un altro essere umano qual è la sua percezione qual è la sua opinione si crea una sorta di amplificazione dell'errore perché la mia opinione cozza con la tua se ne crea una terza che a sua volta cozza con quella di un prossimo possibile personaggio insomma avete un kaleidoscopio Bacon sottolinea e l'abbiamo già visto con Swift andate a rivedere quando sulla famosa isola volante dei razionalisti Gulliver assiste al discorso il dibattito tra questi professoroni tutti i razionalisti che si chiedono come facciamo a sconfiggere gli idola individuati da Bacon come sconfiggiamo i misunderstandings accorciando le parole eliminando i sostantivi eliminando i verbi andate a riascoltare la mia lezione su Jonathan Swift allora abbiamo capito parecchio della poetica dello stile di scrittura di Lawrence Stern andiamo adesso più nel dettaglio e vediamo Tristram Shandy un nome che è tutto un programma Shandy è una sorta di riferimento è un aggettivo che vuole dire un po' sciocchino come se il cognome fosse lo sciocco Tristram lo sciocco e questo potrebbe farci pensare all'anti-eroe di Fielding andate a rivedere anche la mia lezione su Fielding l'anti-eroe Tom Jones questo personaggio un po' la Don Quixote che viene raccontato nelle sue debolezze nelle sue vicende buffe tutto il contrario rispetto all'eroe rispetto a Robinson rispetto a Moll Flanders che invece sono vincenti anche perché sono dei predestinati qui altro che predestinato Tristram è uno predestinato al fallimento è uno predestinato ad essere infelice come suggerisce il suo nome di battesimo Tristram che allude all'aggettivo latino Tristis allora voi direte e perché suo padre Walter lo ha chiamato così e andiamo ad una nuova diapositiva in realtà Walter non voleva che lui si chiamasse Tristram lui quando si recò all'anagrafe per registrarlo voleva chiamarlo Trismegistus che dal latino vuol dire tre volte grande Trismegistus era un attributo del dio mercurio Hermes Trismegistus lui voleva chiamarlo Trismegistus l'impiegato dell'anagrafe insomma voi sapete che non sono sempre acculturati nel riportarlo anziché scrivere Trismegistus scrisse Tristram e questo però è simbolico di che cosa del fatto che le grandi expectations le grandi aspettative che un padre ha nei confronti di un figlio talvolta vengono disattese Walter voleva plasmarlo come voleva lui questo è il sogno che tutti i padri hanno nei confronti dei propri figli cioè lui sarà meglio di me sarà tutto ciò che io non sono riuscito ad essere tutto ciò che io non sono riuscito ad avere lui lo avrà tutto ciò che io non sono riuscito a fare lui lo farà e invece tutto il contrario di quello che Walter voleva voleva che fosse Trismegistus e invece si ritrova Tristram non solo quindi il nome che ricordatevi nomina sunt consequentia rerum e poi nomen omen dicevano i latini nel nome c'è un destino nel nome c'è un presagio lui sarà triste lui è destinato ad essere triste ancora quando verrà estratto dalla levatrice il suo naso subirà una deformazione per cui anche dal punto di vista estetico quando riceverà tra le sue braccia a questo bambino appena nato una smorfia di in qualche modo di malcontento di delusione si disegnerà sul viso di Walter che dirà cos'ha il naso del mio bambino quindi altra delusione altra aspettativa andata in frantumi e questo cosa cosa significa che se Walter voleva che suo figlio fosse un predestinato la solita il solito chiodo fisso di questo periodo chiodo fisso borghese chiodo fisso protestante anglicano sarò io sarà mio figlio un predestinato tutti gli indizi sembrano invece voler dire che non lo sarà affatto ma c'è un episodio che proprio le parole di Tristram racconteranno l'episodio della notte nella quale i suoi genitori Walter ed Elizabeth ebbero un rapporto sessuale che appunto portò al concepimento di Tristram un racconto che Tristram fa in prima persona cosa accade cosa vediamo ci ritroviamo catapultati nel racconto e ci ritroviamo in questa notte tutt'altro che notte d'amore incontro sessuale tra i genitori di Tristram ad un certo punto si sente la voce della mamma di Tristram che dice ti sei ricordato di dare la carica all'orologio a pendolo e il padre che dice ma è possibile che un uomo in un momento del genere venga interrotto e quindi avete capito che si parla di un coitus interruptus venga interrotto con una domanda così stupida e quindi voi capite che Tristram sta dicendo di essere stato concepito in un momento di meccanico sesso cioè proprio come l'abitudine di dare la carica all'orologio a pendolo una volta al mese così c'era questa abitudine ad adempiere ai doveri coniugali da parte del padre e della madre una volta al mese in uno di questi incontri tutt'altro che amorosi ma meccanici abitudinari è nato lui ma quindi cosa mancava quale ingrediente mancava nel suo concepimento mancava l'amore il padre e la madre non lo hanno messo al mondo per amore ma con uno squallido loveless potremmo dire senza amore rapporto sessuale che avviene soltanto per abitudine allora come volete che se già dal dal momento del concepimento è mancato l'amore come può trovare amore questo personaggio questo protagonista Tristram Shandy ancora altro episodio antieroico quasi buffo la circoncisione accidentale di Tristram causata dal vetro di una finestra viene raccontato questa caduta di questa lastra di vetro che circoncide il bambino Tristram che era lì nudo e quindi questo rende possibile la sua circoncisione che però è accidentale vedete tutti questi accidents non fanno altro che che sono tutti banali non fanno altro che convincere Tristram ma io direi soprattutto suo padre Walter che il figlio è un predestinato sì ma al fallimento è un predestinato ad una vita di sconfitte anche Tristram lo sa bene e guardate una chiusa all'episodio di prima del sesso senza amore questo rapporto sessuale meccanico che ha portato al concepimento di Tristram Tristram lo sta raccontando ad un interlocutore noi non sappiamo chi egli o ella sia sta di fatto che quando lui racconta la famosa frase ma è possibile che un uomo venga interrotto l'interlocutore di Tristram ad un certo punto dice oh I'm sorry what did he say again? e Tristram dice no nothing never mind tristissimo cioè lui stava raccontando ad un interlocutore di cui Stern non rende nota l'identità un episodio così doloroso cioè il fatto lui stava confidando si stava confessando di sapere di essere venuto al mondo senza amore per un atto di puro meccanicismo abitudinario e chi lo stava ascoltando non lo stava nemmeno a sentire cioè vedete è il massimo cioè lui stava aprendo il suo cuore ad un'interlocutore che non lo degna nemmeno di attenzione quindi vedete è proprio un Tristram è veramente un personaggio nato predestinato ad un fallimento predestinato ad una vita senza amore predestinato alla tristezza alla tristizia sullo sfondo di questo di tutto ciò quindi abbiamo detto c'è suo padre Walter suo padre che anche lui ha le sue ossessioni ha di che essere di che essere triste e deluso lui è ossessionato vi ricordo ragazzi sempre ossessionato viene da obsidio cioè essere ostaggio lui era ostaggio di queste sue fisime voleva che il figlio avesse uno splendido nome l'impiegato della magra feglielo deturpa voleva che fosse un bel bambino chi estrae chi aiuta il parto gli deforma il naso voleva che fosse un predestinato tutta questa serie di disavventure gli fanno capire evidentemente che tutto è il figlio fuorché un predestinato quindi ha messo al mondo tra l'altro messo al mondo non voluto non amato un infelice un infelice in tutto ciò c'è anche una figura laterale che è quella di zio toby personaggio personaggio se vogliamo anche anche simpatico anche ironico un uomo un reduce di guerra una in un combattimento lui è stato ferito proprio nelle parti basse questa ferita lo ha reso praticamente sessualmente ormai inabile ed è ed è questo il suo chiodo fisso il suo hobby horse ora ci ritorno il fatto che lui essendo stato reso essendo stato evirato ha perso la verilità in un combattimento lui diventerà una one track mind diventerà ossessionato da questa idea del sesso e quindi chiudiamo con questi hobby horses che sono anch'essi un frutto della filosofia di john locke il quale oltre abbiamo visto prima l'idea delle libere associazioni di idee c'era un altro concetto locchiano quello degli hobby horses cosa sono avete presente quei criceti che sono in gabbia e che corrono all'infinito su quelle giostre quelle ruote che praticamente danno loro la sensazione di correre correre ma in realtà sono sempre fermi al punto di partenza bene locke fu uno dei primi a capire che uno dei malfunzionamenti della mente umana è proprio quando noi abbiamo un'ossessione un chiodo fisso una siamo elementi a traccia unica siamo delle one track minds che costantemente rimuginano sempre lo stesso pensiero e quindi sono elementi che hanno un grande lavorio ma che in realtà è improduttivo sono elementi che girano a vuoto bene abbiamo visto il padre di Tristram ma ancora di più anche lui aveva le sue ossessioni ma ancora più Uncle Toby è proprio l'incarnazione di queste one track minds che quindi vivono una vita ossessionati da un pensiero che li relega al ruolo di inetti perché poi praticamente diventano delle persone che non vivono appieno tutti presi come sono in questi loro hobby horses in questi loro chiodi fissi allora ragazzi naturalmente ci sarebbe ancora tanto da dire su Stern ci torneremo quando affronteremo James Joyce sempre in letteratura inglese ma attenti ogni volta che guarderete una serie tv un film dove la prima scena è in realtà la fine quindi cominciamo dalla fine oppure quando durante lo svolgimento di un film o di uno spettacolo aprite una digressione una digressione sul passato sul futuro ricordatevi chi ha inventato questa tecnica è sua maestà Lawrence Stern voi direte sei di parte sì per me è un genio e siamo ancora infinitamente debitori nei confronti di questo grandissimo autore e di un